Dopo l'intervento è come se fossi rinata una sec... Eleonora Giorgia sta tornando piano piano a una vita normal dopo la grande paura vissuta negli ultimi mesi, quando le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, tra i più pericolosi, con... Eleonora Giorgia sta tornando piano piano a una vita normal dopo la grande paura vissuta negli ultimi mesi, quando le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, tra i più pericolosi, con... L'attrice inizialmente aveva avuto un atteggiamento remissivo nei confronti della malattia, per poi tirare fuori tutta la forza di cui aveva bisogno, ora riprenderò a fare la chemioterapia e no... L'attrice inizia... All'inizio non volevo farmi operare, ricorda, pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente... L'amore della sua famiglia le ha fatto cambiare idea, i miei figli, le mie nuore, il mio ex marito Massimo Ciavarro che, sorprendendomi, appena ha saputo ha lasciato Lampedusa e deve non... L'amore della sua famiglia le ha fatto cambiare idea, i miei figli, le mie nuore... Per loro lotterò per la vita fino in fondo e non mi ha re... Per loro lotterò per la vita fino in fondo e non mi ha re... Ho fatto che mi ho devastanti e finora non ho perso tanti capelli fa sapere, poi parla dell'operazione e di cosa l'aspetta adesso, L'intervento è stato effettuato in modo magistrale ed è... Ho fatto che mi ho devastanti e finora non ho perso tanti capelli fa... Ho fatto che mi ho devastanti e finora non ho perso tanti capelli fa... Sapere, poi parla dell'operazione e di cosa l'aspetta adesso, L'intervento... Confesso che spesso mi sembra di avere una minua nella pancia e fa male, ma non mi scopo... Confesso che spesso mi sembra di avere una minua nella pancia e fa male, ma non mi scopo...